Vediamo il comportamento del motore asincrono trifase nel suo funzionamento a vuoto. Per funzionamento a vuoto si intende che il rotore viene lasciato libero di ruotare senza carico meccanico. Scriviamo questa situazione di lavoro, rotore libero senza carico meccanico applicato. Quindi questa è la condizione di funzionamento a rotore libero e quindi, come si suol dire, a vuoto. Allora, in queste condizioni la velocità di rotazione del rotore è molto vicina al valore della velocità di sincronismo del campo magnetico rotante. Quindi n sarà circa uguale a n0 e quindi lo scorrimento assumerà un valore che sarà molto vicino a 0. Per semplificare la trattazione, quindi si ipotizza e si approssima questo funzionamento pensando che la velocità di rotazione sia proprio uguale alla velocità di sincronismo e quindi che lo scorrimento sia esattamente uguale a 0. Vediamo le conseguenze di questo funzionamento. Intanto vi chiamo l'approssimazione che stiamo utilizzando. Le conseguenze principali si hanno sulla resistenza che rappresenta il carico meccanico. Nel circuito equivalente di rotore abbiamo che la resistenza di valore R2 per 1 meno S fratto S se lo scorrimento è uguale a 0 sarà uguale a R2 per 1 meno 0 fratto 0 quindi numero diviso 0 e mi dà un valore infinito quindi significa semplicemente che il circuito di rotore si comporta come un circuito aperto. Le conseguenze di questo fatto sono ovvie e adesso le vediamo quindi l'R2 si comporta come se fosse un circuito aperto. La conseguenza immediata di questo fatto è che la corrente di rotore I2 intanto rappresentiamo sullo schema appunto il circuito aperto al posto del componente generico la conseguenza è che la I2, corrente rotorica, sarà uguale ovviamente a 0. Ulteriore conseguenza di questo fatto è che la corrente allora intanto evidenziamo questa prima conclusione la corrente di rotore è uguale a 0 quindi la conseguenza immediata di questo fatto è che la corrente di reazione statorica quindi quella richiamata allo statore dalla corrente rotorica sarà ovviamente anch'essa 0 in quanto la corrente di reazione che indichiamo con I2' che è data in generale da I2 diviso il rapporto di trasformazione al rotore bloccato K0 questo sarà uguale a 0 in quanto il numeratore I2 è uguale a 0 quindi anche questa conseguenza la evidenziamo quindi complessivamente la corrente di statore I1 sarà data dalla sola corrente I0 abbiamo il nodo quindi in generale dovremmo scrivere I0 sommato vettorialmente a I2' alla corrente di reazione che abbiamo visto è uguale a 0 e quindi la corrente primaria di statore risulta uguale alla corrente I0 che prende il nome appunto di corrente a vuoto ed è la corrente assorbita dal motore nel suo funzionamento a vuoto adesso ci interessa andare a vedere quello che succede complessivamente adesso riportiamo le grandezze e analizziamo la maglia di statore nella maglia di statore abbiamo visto che circola la sola corrente I0 che passa nei parametri trasversali G0 e B0 mentre non c'è corrente nel trasformatore ideale che rappresenta l'accoppiamento tra statore e rotore quindi la maglia statorica se ne scriviamo l'equazione di Kirchhoff viene descritta in questo modo quindi l'equazione di Kirchhoff della maglia statorica la possiamo scrivere semplicemente vedendo che la maglia di statore la V1F la tensione del generatore monofase nel circuito equivalente a monofase sarà data dalla somma delle due cadute di tensione su R1 e su X1D attraversate dalla corrente a vuoto I0 più la tensione indotta sugli avvegimenti statorici e con 1 ovviamente tutte queste relazioni sono di tipo vettoriale e andiamo a rappresentarle su un diagramma vettoriale appunto quindi disegniamo il nostro diagramma come sempre nelle macchine elettriche per determinare la fase di partenza si dà una fase al flusso supponiamo che il flusso abbia fase 0 lo indichiamo quindi sull'asse dei reali come conseguenza abbiamo per la legge di Farad nome Neumann Lenz che le tensioni indotte sono sfasate di 90 gradi sul flusso in questo caso in anticipo per i segni che abbiamo dato quindi abbiamo il vettore della tensione indotta con 1 sull'asse immaginario quindi fase 90 gradi possiamo adesso scrivere l'espressione della corrente I0 dato da il prodotto della tensione indotta e con 1 per l'ammettenza Y0 del ramo che contiene i componenti trasversali in parallelo quindi avremo e con 1 il vettore che moltiplica G0 meno J B0 l'espressione dell'ammettenza del ramo parallelo quindi complessivamente si tratterà comunque di una corrente che una volta determinato con esattezza l'angolo conoscendo i parametri trasversali sarà comunque una corrente in retardo sulla tensione indotta E con 1 in quanto circuito di tipo RL quindi possiamo disegnarla in questa posizione e l'angolo di sfasamento tra la tensione E1 e la corrente I0 sarà un angolo che chiamiamo FI1 corrispondente all'angolo caratteristico dell'ammettenza I0 Y0 cambiato di segno in quanto l'angolo caratteristico dell'ammettenza Y0 risulta negativo a questo punto avendo ricavato graficamente il vettore I0 abbiamo le due cadute di tensione sulla R1 e sulla X1 D che possiamo scrivere vettorialmente come partendo dalla V R1 come è ottenuta dal prodotto R1 per I1 0 quindi lo riscriviamo qua R1 moltiplicato vettorialmente per I0 che risulta pertanto in fase con la I0 quindi la tensione ai capi di R1 sarà ovviamente in fase con la corrente che passa che scorre in R1 quindi lo disegno con un vettore allineato quindi con lo stesso angolo della I0 e lo disegno a partire dalla fine di E1 perché dobbiamo comporli vettorialmente per l'equazione di Kirchhoff alla maglia la caduta di tensione VX1 sarà data dal termine JX1 D per la corrente I0 e quindi vediamo che sarà in anticipo di 90 gradi sulla corrente I0 per il prodotto per il coefficiente immaginario puro J quindi la tensione VX1 sarà in anticipo di 90 gradi sulla corrente I0 come sempre avviene in un induttore quindi lo disegno appunto in anticipo di 90 gradi sulla I0 quindi forma un angolo di 90 gradi con la VR1 che è in fase con la X0 con la I0 e questa è la tensione VX1 la tensione V1 sarà la composizione vettoriale delle tre tensioni che troviamo lungo la maglia e quindi la V1 F sarà data appunto graficamente la otteniamo componendo i tre vettori quello che stiamo facendo vettorialmente non è altro che l'espressione dell'equazione di Kirchhoff alla maglia di statore adesso sappiamo che la corrente assorbita dal motore la I1 corrisponde in questo caso con la I0 quindi l'angolo di fase fra la tensione del generatore V1 F e la corrente assorbita I0 rappresenta l'angolo il coseno di quell'angolo rappresenta il fattore di potenza del motore visto come carico elettrico la potenza assorbita dal motore la potenza attiva avendo il circuito monofase equivalente sarà tre volte quella del circuito monofase quindi abbiamo tre volte V1 F I0 cos fi 0 che ricordando che V1 F è la V1 concatenata diviso radice di 3 quindi che l'espressione diventa complessivamente radice di 3 V1 I0 cos fi 0 espressione caratteristica per il calcolo della potenza in un sistema trifase la potenza reattiva analogamente sarà radice di 3 V1 I0 seno di fi 0 e la potenza apparente sarà radice di 3 V1 I0 espressioni che non ci devono sorprendere tipiche di un carico trifase abbiamo abbiamo visto la particolarità come determinare l'angolo il fattore di potenza l'angolo fi 0 del motore quindi abbiamo sappiamo bene la potenza attiva P0 misurata in Watt la potenza reattiva Q0 misurata in VAR e la potenza apparente S0 misurata in Volt Ampere